Si è conclusa con la vittoria della contrata Il Cavallo e con un grande successo di pubblico nella ventisesima edizione della giostra Castello del Matese, una tradizione che si rinnova e che anno dopo anno vede crescere l'interesse del pubblico, richiamando nel piccolo centro del Matese tantissimi turisti ad assistere ad uno dei più suggestivi spettacoli medievali. La giostra è la festa medievale di Castello del Matese, organizzata dall'Associazione Culturale Cluvia durante il primo fine settimana d'agosto. L'evento rievoca l'assedio dei baroni del 1460, episodio storico risalente a quanto Castello era la rocca alta di Piedimonte, fedele a Ferdinando I d'Aragona, luogo dove ripararsi per l'ultima disperata resistenza. Da Castello del Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it